Ciao a tutti ragazzi sono Luke e sono in Minecraft Dopo il patatrack che è successo nella serie Intekit Vi dico che ho letto tutti i vostri commenti o perlomeno la maggior parte perché erano quasi 2000 E la maggior parte di voi volevano una nuova stagione in Tekit sempre in Coop Però con nuove regole fatta meglio e sperando che gli altri le rispettano Ops una mela Bene ragazzi sono in un server Tekit come vedete Sono da solo E non... Ciao A Kimbo e ciao ciao che sarebbe un abbazzico Ragazzi in questo nuovo episodio di questa nuova serie Noi esploreremo e cercheremo dove costruire la nostra prima casa E intanto vi diciamo l'elenco delle nuove regole E la serie è aperta a tutti quelli che c'erano prima per cui non abbiamo cacciato nessuno Solo che in questo inizio siamo noi tre Poi se entra l'altra gente è buon per loro ma non registreremo più tutti insieme come prima perché... Perché basta Bene cominciamo cerchiamo il posto dove registrare e... E riprendiamo No no che riprendiamo andiamo registriamo intanto che camminiamo diciamo le regole Allora prima regola fondamentale del server Ragazzi è chiunque entra nel server deve registrare qualsiasi cosa faccia Qualsiasi Regola numero due Non distruggere lavoro di altra gente Regola numero tre Tre come la legna che c'ho Regola numero... Aiutatemi ragazzi le regole Non cagare fuori dal recinto degli altri No soprattutto non spaccare le cose degli altri Già detto Non è vero Vedete in modo... Io l'ho detto diverso Vabbè regola numero quattro Mentre raccogliamo la legna Oh alberi di gomma Venite venite Ragazzi non ci perdiamo Venite con me Però ci manca cibo E sta diventando notte Vabbè notte... Notte è un... Oh Dice chi dentro chi Un bucchetto Ragazzi io vorrei raccomare Gli alberi di gomma Che se domani entra qualcuno Ci fottono tutta la gomma Mi raccomando Oh gomma 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 Oh ho trovato un deserto ragazzi Ci saranno i cactus Meno male Bella bella prendi Ok alberi di gomma È arrivato la notte Io ho visto anche un paio di pecore Ma tu stai prendendo la legna o...? Adesso mi sono fatto un... Ragazzi però se vi avrebbe cibo Perché sto già morendo Sì ma tu stai prendendo la legna O gli alberelli? Gli alberelli? Vabbè ragazzi Regole non regole La regola più importante È il rispetto nella serie Rispetto per il lavoro altrui E rispetto per tutto Per cui Abbiate rispetto Rispetto In bocca al lupo a tutti Speriamo sia una nuova stagione divertente Io scatto perché... Perché è buono lo so Comunque Comunque Io sono nel deserto ragazzi E mi faccio una scelta Ok io ho preso un po' di cactus Poi ce li ripiantiamo Prendo anche un po' di sabbia Eh... Ragazzi pecore Se venite con me Prendiamo le pecore Facciamo tutto il letto Sì io mi faccio la spadina Venite con me per favore Dai che c'ho paura Che notte Ok Sto facendo il tritato Ci sarà anche mia moglie Nella serie ragazzi Magari verrà anche più tardi A trovarci Vedremo Yeah Allora qui abbiamo Una bella workbench Vi insegno tutto come si crafta Poi si mettono due cosi Per fare i bastoccosi Facendo i bastoccosi Facendo così Facciamo così Un piccone Dopo aver fatto il piccone Rompiamo la cosa qui Vi spiego tutto passo passo ragazzi Con i nomi perfetti Ho preso la gomma Ok Dopo aver rotto la cosa Direi di scavare Questa cosa qua Scendiamo in questo buco così All'antica Verrete questa cosa E ci chiudiamo dentro Dopo aver fatto questa cosa Ragazzi direi di prendere il piccone E prendere quest'altra cosa Che è la roccia Perfetto Spero abbiate capito Eccola la roccia Ci faccio la fornace Ci faccio le attrezzi Ci faccio Eh? Sì caro Sì caro Io però mi son perso Perché la minumina guida la mappa Oh madonna C'ho la tossicida Ho il cane con la tosse Uguale Vedo gente là sotto Eh sto piccolando come un disperato Oh Oh Akimbo Oh Mi senti? Ok io c'ho abbastanza Per fare una fornace Perfetto Rimettiamo a terra Questa cosa quadrata Ma dove sei? Io sono nel deserto Cavoli vostri Io ho detto seguitemi Come al solito Come tutti i giochi È andata a cazzi vostri Ma cosa c'è qua dentro? Chi è sto buco? Io vedo qualcuno lì dentro Dentro un buco Vedo un nome Allora aspettate Facciamo un attimo di attrezzi Una spada Scusa Ti puoi affacciare? Eh ragazzi un attimo Mi faccio l'attrezzesco subito Ho visto delle pecore Andiamo a farle per il letto Ma ma c'è una talpa qua sotto Oh e dai Sto mouse del kaiser Oh Oh porca di quella Cotto ho letto in panetta Mi devo incazzare oh Faccio la finestra amore mio Ok Basta Fintro la legna Basta Risaliamo giù No Ma che fai Ecco già stanno facendo danni Io c'ho l'alberelli di gomma E voi no Mi hanno chiuso il buco Pezzi di cacca Dai ragazzi che mi Dai è buio Non vedo Non c'ho torce Dai Mi aiutate Ah che kaiser Ecco Ci siamo incastrati Sai che adesso non possiamo più uscire Manu Lo sai vero? Bravi ragazzi È finita la serie Guardate Non possiamo più rompere niente È finita la serie ragazzi Per colpa di Akinbo Akinbo e Nabazzo I due efficienti È già finita È finita la serie Basta Fermi fermi Non vi picchiate Fermi Manu In un blocco Uno per uno Non puoi rompere niente attorno Ci siamo incastrati Non possiamo usare i cheat È finita la serie Basta E mi sta scappando una scurreggia Ragazzi Spero vi sia piaciuta la serie Spero sia durata tanto Vi diciamo che Da Luke Nabazzo Akinbo è tutto Ciao a tutti 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 Ciao a tutti